Perché le piante grasse non fioriscono? Ecco i tre motivi principali e un suggerimento da fiorista. Ciao, benvenuta o benvenuto in questo nuovo video di pianta succulenta. Se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale ed attiva la campanellina delle notifiche per non perdere nessuno dei nostri prossimi video. Non dimenticare di lasciare un like ed un commento se hai domande o consigli. Grazie e buona visione. Le piante grasse, quelle meravigliose e variegate creature vegetali che spesso decorano i nostri giardini e interni, sono note per la loro resistenza e la loro unicità. Tuttavia, una cosa che spesso ci sfugge è la loro fioritura. Molti di noi, infatti, si chiedono perché la loro pianta grassa non fiorisca, nonostante sembri in salute. La risposta a questa domanda non è univoca, poiché ci sono diverse ragioni per cui una pianta grassa potrebbe non fiorire. Esploreremo in questo discorso alcuni di questi motivi, tra cui l'adattamento al deserto, la necessità di raggiungere una certa maturità e l'influenza delle condizioni di crescita. Inoltre, condivideremo un trucco utilizzato dai fioristi per stimolare la fioritura. Prima di addentrarci in queste questioni, però, è importante capire che ogni pianta grassa è unica e che ciò che funziona per una potrebbe non funzionare per un'altra. Motivo 1. Adattate a vivere nel deserto. Le piante grasse, o succulente, provengono da aree aride come i deserti. Si sono evolute per resistere a condizioni dure, con scarsa acqua e alte temperature. Questo ha influenzato la loro capacità di fiorire. Poiché la produzione di fiori richiede molta energia, queste piante hanno sviluppato la capacità di limitare la fioritura per risparmiare risorse vitali come acqua e nutrienti. Quindi, in natura, molte di queste piante potrebbero non fiorire per niente. Motivo 2. Bisogno di tempo per maturare. Le piante grasse devono crescere e maturare prima di poter produrre fiori. La maggior parte ha bisogno di alcuni anni per raggiungere la fase di crescita in cui sono pronti a fiorire. Quindi, se la tua pianta grassa è ancora giovane, potrebbe semplicemente non essere pronta per fiorire. È importante avere pazienza e aspettare che raggiunga l'età adatta alla fioritura. Motivo 3. Cura e condizioni di crescita non adeguate. Per fiorire, le piante grasse hanno bisogno di cure specifiche e di determinate condizioni di crescita. Se non ricevono ciò di cui hanno bisogno, potrebbero non fiorire. Fattori come l'esposizione al sole, la temperatura, l'irrigazione e il tipo di terreno possono influenzare la fioritura. Assicurati che la pianta riceva almeno 6 ore di sole diretto al giorno e che il terreno in cui cresce sia ben drenato e specifico per le piante grasse. Evita di annaffiare troppo, queste piante preferiscono un terreno asciutto. Un trucco dei fioristi. Se vuoi che la tua pianta grassa fiorisca e non vuoi aspettare che maturi, c'è un trucco usato dai fioristi. Consiste nell'uso di ormoni di crescita chiamati giberelline. Questi ormoni artificiali possono essere applicati alla pianta per stimolare la fioritura. Ricorda però di seguire le istruzioni e di usare questi prodotti con attenzione per non danneggiare la pianta. In conclusione, ci sono vari motivi per cui una pianta grassa potrebbe non fiorire, tra cui l'adattamento all'ambiente desertico, la giovane età e le condizioni di crescita inadeguate. Se vuoi che la tua pianta grassa fiorisca, assicurati di fornire le giuste cure e le condizioni di crescita adeguate. Se vuoi accelerare il processo, puoi considerare l'uso di ormoni di crescita, ma fallo con prudenza.